Quella sporca ultima rete Buongiorno a tutti quanti voi allora Buongiorno a te Buongiorno a te e buongiorno anche a Germania Buongiovanni Buongiovanni Ah a proposito Ma di Staso? What and have doing, have done Andrea di Staso Adesso io ti spido caro Lapo Vediamo quando arriva cosa gli dirai Lo stiamo aspettando Non ho capito perché il motivo di Staso non si presenta fino alle 5 Di Staso gentilmente puoi venire diretta Cribbio Di Vicenzio No ma davvero Ma io sono sgomento di fronte a questo Niente nulla lo metto in difficoltà Bravo Vabbè Yuri torniamo alle padelle tabelle Alle padelle 4 salti in padella Findus Cosa siete 20? 4 Più 7 3 Riporto di 2 Sono imbarazzato 12 Sono veramente imbarazzato Che niente Fa 7 punti Adesso ti conto con i del Milan 3 4 Germana sei laureata da 2 giorni E non sai fare 2 più 2 7 Wow 2 più 2 7 3 più 3 per lui Fa sempre 7 Noé Lapo come è finita la discussione tra Adriano e Micheletti Hanno litigato di brutto ieri sera a Big Mesh Ho la presunzione di parlare italiano in modo molto chiaro Ho soltanto detto che i nostri punti di partenza sono troppo lontani per trovare un punto di incontro Mi sta insultando pubblicamente Io non mi sarei mai permesso Può anche darsi Può anche darsi È stato un piacere ragazzi È andato Giorgio Vabbè Oh madonna benedetta dell'ingoroneta di foggia cinofila Stasera li sentiamo Li sentiamo sì Perché alla fine è stato semplicemente un equivoco Quindi verrà tutto chiarito Quindi hanno fatto pace Ma sì Assolutamente Bene dai Ciao Giorgio Una vecchia parabola dice che quando pianti un chiodo in una staccionata dopo aver commesso un errore Lo togli quando hai chiesto scusa e il buco nel legno rimane Io mi sono armato di stucco, cartavettra e vernice per rimettere a posto tutta la staccionata Claudio noi ti lasciamo andare Ti faccio in bocca al lupo per la partita di stasera Sì grazie Io non ti avevo distrubbato C'è Gualtiroli il tuo tecnico che ti fa gli auguri anche lui È sentito che ti saluta Gualtiroli vai tranquillo li massacriamo Quello di stasera è una serata disastrosa Non resiste alla badante, a 80 anni la mette incinta Io sono superman, sono invincibile Pronto Buonasera Ah Piero Ciao Piero Buonasera, buonasera, buonasera Reduce da Londra Non bello da Barletta, sono stata Barletta Bene, va bene uguale Uè a tutto lo pugliei Va bene Roberto, se non hai altro da aggiungere noi ti saluteremo Allora terza domanda niente Non c'è proprio la terza elezione Sono figlio unico di madre vera No E sono figlio unico, pur, di madre vedova In Polonia c'è un accendino a forma di granata Risultato, viene evacuato l'aeroporto Granata Sono Gennaro Ehi là Ehi Gennaro Ehi complimenti a tutti A tutti, siamo tutti laureati Un complimento a tutti Grazie Grazie ancora, grazie a tutti voi A te Germana Grazie Gennaro Grazie, sei molto gentile A te Lapo Per l'Inter Complimenti per la trasmissione Siete tutti bravi Grazie a tutti Grazie a tutti